ciao a tutti ben trovati pochissimi giorni ormai a natale ai nostri microfoni il vescovo giusti eccellenza ci avviciniamo al natale un tempo di speranza sì di speranza perché si stanno adombrando tante opportunità di lavoro il nuovo ospedale la nuova d'arsena i bacini che debbano tornare a essere fonte di lavoro si parla di centinaia di persone il rinnovamento profondo della raffineria con la possibilità di investimenti da 250 milioni e tantissime assunzioni sia dentro che fuori per cui c'è della speranza però cosa occorre responsabilità occorre fare le cose bene occorre cercare di far tutto nel rispetto delle leggi dell'ambiente occorre il senso del dovere e non il senso del partito il natale ti invita a essere una nuova umanità un'umanità che ha in adame ed eva in gesù e maria un nuovo proposito un nuovo immagine grandi nella storia grandi nella carità grandi nella responsabilità grandi nel vincere ogni cosa dal dolore la sofferenza la morte grandi nel costruire una storia di giustizia è quello che noi dobbiamo portare avanti con questo natale anche nel nostro territorio vi aspetto naturalmente in cattedrale o nelle tante parrocchie per celebrare il santo natale il natale è se incontro cristo non se mangio semplicemente un dolce che poi ti fa ingrassare invece devi crescere nel cuore e nello spirito non solo nella pancia buon natale a tutti i cattolici impegnati in politica sul territorio diocesano si sono incontrati in vescovado una mattinata di confronto sull'operato per il bene comune ed uno scambio sincero di auguri in vista del natale tema del dibattito è stata la verità partendo dal libro del profeta amos il vescovo ha ricordato che per un cristiano è inammissibile dire falsità occorre fare politica nella chiarezza e nella verità nella cultura individualistica dei nostri giorni inoltre è necessario fare di più per il bene comune pensando oggi a coloro che verranno dopo di noi per lasciare un mondo migliore di quello che abbiamo trovato la scuola della parola sta diventando un appuntamento sempre più speciale per tutti i giovani della nostra diocesi un momento di spiritualità di crescita nella fede e di amicizia la riflessione questa volta è stata offerta da don rosario esposito sulla chiamata di davide e sulla vita del futuro beato carlo acutis dopo la scena tutti insieme la serata di festa si è arricchita con un concerto dei dopo mi confesso giovani band musicale della diocesi il prossimo appuntamento con la scuola della parola è per venerdì 24 gennaio con un'altra serata di preghiera insieme ed un altro concerto regina irene debora e natasha sono questi i nomi delle quattro donne che il primo dicembre sono state ammesse al rito dei catecomini adulti nella cappella del vescovado hanno mosso i primi passi del cammino verso l'incontro con dio con il rito di ammissione hanno manifestato al vescovo simone il loro desiderio di accogliere il signore nel proprio cuore nella propria vita nei sacramenti dell'iniziazione cristiana cammino che percorreranno insieme ai loro catechisti ai garanti ai familiari la chiesa di santa maria di torretta è da alcuni anni la sede della parrocchia africana istituita da monsignor giusti per dare un luogo di ritrovo e raccoglimento alla comunità africana che vive a livorno incaricato della pastorale di questa comunità è don guglielmo che anche il vice parroco a sant'andrea e proprio in questi giorni la comunità africana ha vissuto il suo primo battesimo è stata la piccola rose a ricevere il sacramento la famiglia originaria della nigeria preparata da don guglielmo ha unito la sua gioia a quella di tanti amici presenti alla celebrazione la comunità africana ha trovato finalmente in questo luogo la possibilità di stare insieme e crescere nella fede accompagnata dal sacerdote che è presente in chiesa ogni martedì e mercoledì pomeriggio testimoni dell'amore è questo il tema degli esercizi della carità di quest'anno promosse dalla pastorale giovanile vincenziana e della pastorale giovanile della diocesi di livorno una proposta che vedrà riuniti giovani dal 28 dicembre al primo gennaio un periodo da dedicare al servizio alla formazione alla preghiera condividendo la gioia della fraternità e vivendo insieme agli amici della caritas questo periodo di vacanza quella del prossimo 6 gennaio sarà una befana molto speciale gli re e magi infatti per la prima volta a livorno arriveranno a cavallo un piccolo presepe itinerante si ritroverà nel pomeriggio alle 15 e 30 alla chiesa della madonna da lì i magi partiranno preceduti dai bambini e dalle famiglie che intoneranno canti natalizi e si avvieranno verso la piazza cavallotti seguiti dai centurioni a cavallo un coro di bambini li aspetterà alla chiesa di santa giulia e da lì proseguiranno fino alla cattedrale dove ci sarà la lettura del vangelo e la benedizione del vescovo il pomeriggio si concluderà poi con doni e canti per i bambini il 27 e il 28 dicembre prosegue il chiricarica il percorso dedicato ai ministranti don matteo giavazzi ce ne parla ai nostri microfoni durante le vacanze di natale i chirichetti ministranti di tutta la diocesi si ritroveranno per una due giorni insieme cosa si tratta si abbiamo pensato di prolungare continuare il lavoro che abbiamo già iniziato nel mese di ottobre per vederci un po insieme fare due giorni fare un po il punto sul lavoro che si fa nelle parrocchie e soprattutto rileggere il percorso dei ministranti in chiave vocazionale perché i ragazzi hanno bisogno anche di un riferimento alla loro vita quindi l'esperienza del ministrante può diventare anche un'esperienza importante per scegliere che cosa fare della loro vita come funzionerà questa due giorni sarà una due giorni vissuta con loro interattivamente abbiamo già contattato i responsabili dei ministranti che ci hanno incontrati e che hanno insieme a noi stilato un breve programma si inizierà il 27 di dicembre al mattino tutti insieme e poi si concluderà il 28 è possibile il pernottamento in seminario contattando i parroci e è possibile anche venire un giorno sì o l'altro no rispetto anche alle possibilità che le famiglie hanno in questo periodo con tanti eventi e tante iniziative vi segnaliamo gli appuntamenti della diocesi di livorno per le prossime settimane lunedì 23 dicembre alle 11 e 30 il vescovo rivolgerà i suoi auguri alla città dal villaggio della carità alle 21 alla chiesa della sacra famiglia lo spettacolo di natale delle parrocchie dei quartieri nord martedì 24 dicembre in cattedrale la veglia e la messa di natale in diretta su granducato tv mercoledì 25 dicembre alle 8 e 45 il vescovo presiderà la santa messa in carcere alle 10 e 30 la messa di natale in cattedrale in diretta su granducato tv giovedì 26 dicembre alle 10 a castelnuovo della misericordia incontro con i genitori e gli animatori e a seguire la messa per la festa patronale venerdì 27 dicembre alle 16 la messa alla casa di riposo in via baciocchi da sabato 28 dicembre a mercoledì primo gennaio gli esercizi della carità per i giovani a quercianella lunedì 6 gennaio alle 9 in ospedale il vescovo visiterà i bambini alle 10 e 30 la messa per l'epifania in cattedrale lunedì 6 gennaio alle 15 e 30 alla chiesa della madonna l'arrivo e l'adorazione dei magi il percorso poi si snoderà tra le vie della città per arrivare in cattedrale domenica 12 gennaio alle 8 e 45 la messa e le cresime in carcere grazie per essere stati con noi anche questa puntata ci vediamo nel 2020 buon natale a tutti e buon anno ciao ciao a